Ciao Aurelio, buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti alla presentazione di A Casa Tutti Bene, la nuova serie in onda dal 20 di dicembre su Sky Serie e su NaoTV, siamo tantissimi, come sapete è una serie Sky Original prodotta da Sky e Lotus Production, società di Leone Film Group, do subito il benvenuto, ci siamo già salutati a Gabriele Mucino, regista e sceneggiatore, Antonella Delrico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Sonia Rovai, produttore per Sky Studios, buongiorno, Raffaella Leone, CEO del Leone Film Group, di cui fa parte Lotus Production, Marco Belardi, buongiorno, produttore per Lotus Production, Barbara Petronio, sceneggiatrice e produttrice creativa, buongiorno. E poi in prima fila si sono già fatti sentire, leggo i nomi, ragazzi scusate siete tantissimi, Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D'Amico, Mariana Falace, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani, Francesco Martino, Alessia Moneta, Alessio Moneta, Francesco Scianna, Paola Soggio e vabbè naturalmente salutiamo anche... Se vi alzate non vi vedono. Vai. Ah, ok. Sì. Sì. E sono anche di Navea. E non solo con noi ma li salutiamo, non sono potuti essere con noi Laura Murante, Emma Marrone e Antonio Folletto. E allora, come sapete vabbè le domande di chi è qui presente si possono fare con la mano, poi ci sono numerosi giornalisti anche collegati che possono scrivere all'ufficio stampa per le domande. Gabriele, sei riuscito a fare tutto questo, che è una gran cosa, non avevamo dubbi naturalmente a riguardo, però scherzi a parte, che libertà ti sei preso in questa tua prima esperienza in una serie televisiva? Mi sono preso l'ambizione di fare una serie che nasceva da un'altra mia creatura che avesse lo stesso standard qualitativo e la stessa avvenzione narrativa e linguistica. Cioè, mi sono imposto di non cambiare linguaggio, di non attenuare gli spigoli, di non ammorbidire le frizioni, i conflitti, i dolori, i buchi affettivi, la sgradevolezza anche dell'essere e di stare al mondo. Non ho voluto patteggiare con un mezzo che fosse, appunto, diverso dal cinema, ma ho pensato ambiziosamente, forse presuntosamente, di portare il cinema in televisione. E l'ho fatto con questo spirito, fondamentalmente. E sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto perché penso che sia un'operazione molto empatica. Cioè, c'è una grandissima empatia verso di loro, in virtù, credo, anche proprio delle loro debolezze e fragilità. In cui noi, innegabilmente, ci riconosciamo e quindi viaggiamo insieme a loro, sprofondiamo anche insieme a loro, ma questo credo che sia anche un veicolo per esorcizzare quelle cose irrisolte della nostra vita che sono poi le loro, ma sono le nostre. Quindi è un gioco di specchi, fondamentalmente, che mi sembra bello portare in televisione a un pubblico ampio. E anche un pubblico, tra l'altro, io credo, forse anche più giovane di quello che mi segue al cinema. Perché ormai, chi è nato nel 2000, nel 99, nel 2003, è nato dopo che io avevo già fatto l'ultimo bacio, oppure è nato, alcuni sono nati, mentre giravo la ricerca, la ricerca, la ricerca, la ricerca, la ricerca. Quindi, in realtà, anche se alcuni miei film come La Ricerca sono molto conosciuti, molte persone, molte adolescenti non sanno che è mio. Quindi questo veicolo, secondo me, attraverso Sky, io spero anche di riportare il mio linguaggio a quelle persone che non lo identificano come mio, perché graficamente non hanno avuto la possibilità di conoscerlo, crescendo. Certo. Antonella, per Sky questo progetto che cosa ha significato? Allora, intanto, buongiorno a tutti e buongiorno a questo magnifico cast enorme che abbiamo qui davanti. Due cose molto importanti. Intanto, la prima è che è la prima volta che in Sky produciamo un family drama. E ovviamente con uno sceneggiatore, un regista così importante come Gabriele, che è la persona che anche lui per la prima volta si cimenta in una serie. Per cui sono due prime volte che si incontrano. Il family drama era un territorio in cui con la serialità prodotta da noi non ci eravamo ancora avventurati. Tra l'altro è anche abbastanza poco comune, se ci pensi in Italia, che ci siano delle serie di family drama. È molto più tipico della serialità americana, piuttosto che della letteratura spagnola. Non è radicatissimo in Italia, benché le nostre famiglie siano invece così prepotentemente presenti. Forse sono così presenti che non abbiamo mai osato affrontarle, abbiamo fatto nei film, ma non l'abbiamo mai fatto nella serie. Quindi questo per me è molto importante, perché appunto sono queste due prime volte. La seconda cosa che ovviamente tralascio, il fatto che farlo con Gabriele sia per noi molto bello. Il fatto che lui quando ci ha presentato questo progetto insieme a Marco Belardi ci abbia convinto immediatamente a lanciarci in questa sfida. Ma l'altra cosa anche così molto rilevante è il fatto che sia un cast così grande, così corale, che rappresenti tutte le sfaccettature, tutte le frizioni, tutte le emozioni negative e positive e a cui i nostri viewers si affidino, perché una serie deve sempre avere un film, un contenuto che ti prende, deve sempre avere questo ingaggio emotivo importante, in cui tu trasferisci, ti specchi, metti qualcosa di te stesso e ritrovi qualcosa di te stesso. La seconda cosa molto importante è il fatto che per la prima volta, quindi un'altra prima volta, abbiamo deciso di iniziare a scrivere, poi abbiamo deciso ma poi la scrive Gabriele, la seconda stagione subito. Ah così? Sì. Subito questa notizia. Sì, credo che questo sia da un lato ovviamente un grande segno di fiducia nei confronti della forza di questa serie, perché ci crediamo veramente moltissimo ed è bello che chi vede una serie possa sapere che continua e ritrova i suoi, io uso questa parola quando guardo le serie che mi piacciono molto, i suoi amici, dove sono andati i miei amici quando non li vedo più in onda, che siano di nuovo presto in onda con altre vicende, con la prosecuzione di cose magari che sono rimaste in sospeso, emozioni non risolte, quindi anche questa è la prima volta ed è un segno proprio di quanto crediamo in questa serie. Gabriele, si è rimasto senza parole, ha già detto la seconda stagione. No, 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 in realtà sono stato il primo appena ho visto finito l'ultimo episodio, io per un momento ho pensato a un altro regista che potesse sostituirmi, però in realtà... la voglia di filmare, ho pensato con Barbara Pedronio che in realtà è fondamentale per me perché la struttura seriale io non la conoscevo e la sto imparando in qualche modo, quindi ci sono delle regole per strutturare il mio linguaggio, quindi io con Barbara in realtà si è creato, credo, un fatto di fiducia reciproca che inizialmente era un po' difficile da conquistare perché io ho il mio linguaggio che è molto potente, ma comunque quando io ho il fatto dell'arco è solo un po' così, al cinema insomma... Sentiamo i ragazzi, secondo me... Non sono il punto di forchetta, però in realtà però non so scrivere, cioè strutturare una serie non è una cosa, quindi in realtà il mestiere e la conoscenza di Barbara sono fondamentali per me, per cui adesso ho messo le mani sul soggetto di serie in modo da chiarire a me per primo qual è proprio l'andamento all'interno degli episodi e poi ora Barbara lo rilavora, poi ci saranno le scegliature che io rilavorerò ulteriormente e poi ci sceglieremo, però insomma è un lavoro di squadra in cui sicuramente il linguaggio perché sia mio ha bisogno di un lavoro di team che si fidi di me e la fiducia che ho trovato da parte degli attori, dei produttori, degli scrittori, di Sky che mi hanno lasciato questa libertà artistica assoluta che per me è fondamentale, cioè io riesco a fare cose accettabilmente buone solamente quando sono libero artisticamente, quando qualcuno ha provato a mettermi il guinzaglio e a dirmi di andare a destra quando diceva un'altra cosa, ho sbagliato, è successo in America particolarmente, però devo essere in condizione di seguire l'istinto e non di razionalizzarlo, cioè di non spiegare perché quella cosa è giusta così, perché non so nemmeno io, però quindi sono istintivo e come tale ho bisogno che l'istinto mi possa guidare senza che io debba, come si fa in pubblicità, spiegare le ragioni di quell'istinto perché non le so ricavare. Lo vediamo poi nel risultato finale. Va bene, Raffaella, eccoci, come è stato invece per voi collaborare su questo progetto con Sky, come è venuto a vedere, li conoscete. Prova a parlare, penso che sono aperti. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie. È stato fantastico, nel senso che noi abbiamo un rapporto con Sky ormai consolidato da anni per quanto riguarda la parte cinema, nel senso che siamo cresciuti insieme grazie anche al contributo, al rapporto, alla fiducia reciproca. Questo è un passo ulteriore perché è una novità e quindi è una cosa che ci ha emozionato molto, ci ha emozionato, ci ha impegnato, ci ha fatto, come dire, cercare di fare le cose nel modo migliore possibile, di mettere a punto Gabriele nelle condizioni di lavorare al meglio e di, possibilmente, di fare un prodotto che fosse all'altezza di Sky e che fosse un prodotto con un carattere, lasciatemi il termine cinematografico. Gabriele è un grande regista, è un grande talento e quindi, come dice lui, lasciare le briglie sciolte voleva dire anche far sì che un po' il suo cinema entrasse in questa avventura e secondo me ci è riuscito pienamente, non ci sono in questa serie limiti, se vuoi, quando si trovano delle serie televisive, è un prodotto di grande livello, è un prodotto secondo me internazionale perché il tema della famiglia, anche se le nostre sono delle famiglie un po' particolari però comunque queste dinamiche in modi diversi si riscontrano ovunque, quindi, che dire, ringrazio Sky per la fiducia e per la possibilità di aver fatto, di averci dato la possibilità di fare questo grande viaggio. Benissimo, grazie Raffaella. Sonia, Gabriele ha già detto che si è trovato benissimo produttivamente con Sky, l'avete lasciato libero? Buongiorno a tutti. Sì, assolutamente, ma anche perché adesso stavo pensando, mentre lui parlava, che si dipinge così complesso, così complicato, così diciamo un po' rompiballe come ogni tanto racconta, in realtà per me è bello dire che è stato facile, cioè la cosa più bella che Gabriele ci ha regalato è stata, nonostante la complessità dell'ultimo anno e mezzo che abbiamo, diciamo, passato tutti e la difficoltà di tornare a girare, quindi insomma produttivamente, tutto quello che circonda, insomma, questa brutta incognita, il cast corale, come diceva Antonella, 18 persone come main cast, insomma 18 grandi attori, non è una cosa da poco, e i tempi strettissimi, perché diciamo, l'abbiamo iniziato a girare a metà marzo e siamo in onda dicembre, che è una cosa estremamente anche rara, da un po' 8 episodi, produttivamente è veramente una sfida contro il tempo, in questo ringrazio Lotus perché ha fatto un lavoro veramente certosino per riuscire a far collimare tutti i singoli departi, però nonostante tutto ciò, quindi questa complessità che io so che c'è dietro, però per me è stata una facilità, di facilità estrema da gestire, perché Gabriele comunque ti coinvolge, prima di tutto, perché lui dice l'estrema libertà, è vero, ma è basato sulla fiducia reciproca, e quello che lui ti dà, ti viene normalissimo restituirli, per cui i messaggini delle 7, quando mi dicevo finito il mix, oppure ho quasi quasi l'ultimo tricollo, fine episodio 7, la teniamo o non la teniamo, quell'inquadratura, cioè quella cosa lì per me è sinonimo, sì, veramente di una voglia di lavorare, di costruire insieme è il prodotto migliore, partendo dal suo talento, dal talento di tutto questo splendido cast, di chi l'ha scritta, proprio di tutte le maestranze coinvolte nella serie, però poi vengono restituite dalla voglia insieme di fare quei piccoli ritocchi o di parlarsi, di coinvolgersi, e alla fine poi quello che tu vedi sullo schermo ti appaga, cioè io ho finito di vedere la prima, la seconda, la terza, ogni volta gli scrivevo, quando arriva l'altra? Nonostante sapessi le sceneggiature, nonostante le avessimo lette, le avessimo riviste mille volte insieme, quindi sai cosa aspettarti, però sai che come lui lo renderà sullo schermo è qualcosa che tu non puoi neanche immaginarti mentre le leggi, è comunque una sorpresa, è una sorpresa continua, quindi a me piace dire che nonostante tutta questa complessità è stata una delle serie più facili personalmente da realizzare, e quindi di questo posso soltanto ringraziare lui e per lui tutti ovviamente coinvolti. Benissimo, grazie. Vengo a te, Gabriele, ti conoscete da tanto, come è stato il passaggio dal film alla serie? Cosa vi è? Ma guarda, il passaggio è stato molto semplice, perché io che Gabriele facesse una serie ero completamente tranquillo, forse lui ha avuto qualche timore sui tempi, sulle tempistiche, aveva la paura, diceva, ma provo a fare. Eh, sono molto stretti, si sono liberati molto stretti. Però io ero tranquillo perché Gabriele lavora in un modo fantastico, nel senso che il mio primo film che ho fatto con lui è stato a casa tutti bene, si è presentato un giorno con un booklet enorme dove lui si era segnato tutto il film, nel senso che aveva una shooting list, anche storie bordata, con tutte le inquadrature che lui andava a fare, che cosa che io non avevo mai visto in nessun regista italiano che faceva queste cose, forse quando facevo la pubblicità c'era questa cosa, ma era fatta per sette pagine, sei, sette pagine, invece lui l'aveva fatto per tutto il film, quindi lui si era studiato ogni singola inquadratura, cioè lui prima che va sul set ha già in mente tutto il film, cioè c'era già in testa, io, è una cosa che questa veramente mi meraviglia sempre ogni volta che lo fa e questo è successo anche con la serie, ma però poi dall'altra parte sembra che è una macchinetta, no? Invece no, non è così, perché poi magari va sul set e cambia delle cose, aggiusta, sente gli attori, li coinvolge e quindi ogni volta che io vado sul set è un film che mi chiedo dal vero, perché è veramente, non sto qui a fargli i complimenti perché lui lo sa quanto amo il suo cinema e quanto mi piace il genere mucciniano, no? Che dico sempre, e quindi anche questa serie la adoro e sono veramente orgoglioso di averlo fatto, ringrazio Sky per Sonia, che comunque anche Nils e Enrica che ci sono stati vicini su questo progetto. Grazie. Grazie, grazie a te Marco. Barbara, questo è in parte già anticipato, Gabriele, su come avete lavorato, però insomma raccontaci come è stato questo doppio incastro. Innanzitutto voglio un attimo citare anche gli altri scrittori che insieme a me hanno scritto questa serie, sono Capilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile, che hanno, come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato ovviamente con una parola d'ordine che era dialogare, confrontarsi, quindi ci siamo visti con Gabriele per un brainstorming generale all'inizio, abbiamo capito quali erano le cose a cui lui in particolare teneva. Le abbiamo rielaborate, gli autori hanno messo del loro e sono sempre stati, questo devo dire che è un po' quello che diceva Sonia, effettivamente c'è stata una facilità incredibile, io ne ho scritte tante di serie e spesso si creano frizioni, invece la capacità che abbiamo avuto tutti di ascoltare l'altro, e che mi pare che stiamo continuando ad avere anche in questa seconda stagione, è forse il vero valore aggiunto dal punto di vista proprio personale, che è una cosa veramente rara da trovare. Quindi ci siamo confrontati su quelli che erano i personaggi del film, abbiamo stimolato Gabriele ad inserire gli elementi di novità, e questi elementi di novità che poi il pubblico ovviamente vedrà, sono stati da lui recepiti e resi, come dire, per usare un termine usato molto spesso, muciniani, quindi abbiamo creato un genere, il family drama muciniano. Che dire, insomma è stata un'esperienza molto divertente, bella, creativamente molto appagante e spero appunto che i risultati si vedano per tutti, per noi che l'abbiamo fatto, sicuramente ci sono, non va per il pubblico a casa, perché è vero che l'Italia non è maestra nel family drama, diciamo è vero che questa serie ha ambizioni cinematografiche, io preferisco dire che ha ambizioni di alta televisione, come spesso in Italia magari non vediamo, e in questo effettivamente è un prodotto più internazionale, perché è un po' più libera da alcuni paletti che di solito invece nella nostra fiction seriale si trovano. Assolutamente, grazie, grazie Barbara. Allora, diamo la parola ai colleghi, naturalmente anche il, insomma il cast non poteva per questioni fisiche stare con noi, ma potete fare le domande anche a tutti quelli che sono in prima fila. Vi chiedo gentilmente se vi presentate quando fate la domanda, grazie. Buongiorno, sono Enzo Buonaiuto dell'agenzia di stampa di Ennecronos, volevo chiedere al regista Muccino quanto questa serie è, diciamo, fedele al punto di partenza e quindi al film, e se quando lui fece il film c'erano già, come dire, infieri, in nuce degli aspetti, degli allargamenti che lui nel film ovviamente non poteva fare nella storia per la durata del film, che magari rimpiangeva di non aver fatto allora e possono essere stati invece ripresi grazie alla durata della serie che consente ovviamente un ampliamento maggiore della storia dei personaggi. Grazie. Dunque, l'idea di fare una serie mi è venuta per la prima volta in 11 o 12 film realizzati solo quella volta, cioè io girato a casa tutti bene, ho pensato che quel film voleva continuare in un'altra forma, però aveva dei personaggi realmente forti e carichi di vita che si vissero a parlare proprio durante il set con gli attori di farne una serie, poi per i motivi logistici perché era impossibile di rimettere insieme quel cast che già per otto settimane fu molto difficile riunire, figuriamoci per 16, 6, 7, 18 settimane, insomma, era impossibile. Quindi mi sono messo nell'ottica di trovare un cast nuovo, completamente nuovo, ma che avesse in ognuno di loro delle specifiche forti che potessero ricostruire quella mappa che il film segnava con delle coordinate proprio di atteggiamento e dello stare alla vita che erano tipiche di quei personaggi. Per cui ho fatto un cast molto attento, molto curato, alcuni di loro hanno fatto 30 provini, uno solamente perché erano talmente perfetti che non ho più voluto capire se potevano andare oltre. Però è stato un cast anche molto severo perché poi in realtà chi è qui non ci ha finito per caso. Io avevo bisogno del miglior posizionamento per ciascun ruolo perché questa serie non fosse minore rispetto al film. Essendo una cosa diversa, raccontano una storia che non si riaggancia in nessun modo a quello che era avvenuto sull'isola nel film, ma racconta gli stessi personaggi posizionati sul Roma con dei conflitti che sono di grandissima forma perché non c'è una claustrofobia così stretta come quella dell'isola che erano tre giorni in cui erano intrappolati, ma qui ci sono anche altri sistemi e anche altri stimoli primari che vengono messi in gioco. Per cui hai la possibilità in una serie di otto episodi di esplorare tanti sentimenti, tante spinte propulsive tipiche proprio del male uomo, dall'avidità, dalla gelosia, dal conflitto tra fratelli, i buchi affettivi, i traumi infantili, il background che ti arriva da quello che sono stati i tuoi genitori. Quindi in realtà riesci a fare un carotaggio di una famiglia e capirne i risultati finali e anche la sorgente di questi risultati. E questo è molto interessante perché hai la possibilità di raccontare ognuno di loro e il motivo per cui ognuno di loro agisce in quel determinato modo, cosa che in un film da un'ora e 45 come era quell'originale è costretto a una sintesi continua perché in scene da 40 secondi, 30 secondi devi suggerire un mondo che qui invece in realtà hai possibilità di raccontare e di riprendere nel corso di altri episodi avvenire. Per cui hai il lusso del racconto, del racconto largo, lungo e approfondito e se metti in una lotta onesta con quello che è il tuo sentimento nel raccontare la vita, io penso che si possa anche raccontare qualcosa di importante e che racconti allo spettatore qualcosa di inedito e di forte. Grazie Gabriele. Prego Sonia, grazie. Ciao, buongiorno, Sonia Serafini per Style Magazine del Corriere della Sera. Gabriele, tu hai un po' un marchio di fabbrica che è quello di gestire un casco orale. Di solito gestisci grandi attori, qui hai fatto un next level, cioè hai preso metà cinema italiano e hai deciso di gestirlo su una serie. Quindi volevo sapere cosa cambia dal gestire un set importante, degli attori importanti su un film e portarlo su una serie, se hai avuto magari bisogno di uno psicologo da set perché hai visto tutti questi attori. E poi un'altra domanda, quando hai presentato il film hai detto che l'ambientazione di Ischia aveva creato una specie di magia, quindi volevo sapere cosa hai fatto per ricreare quella magia su questo set. Grazie. Diciamo che il comune denominatore, la serie, il film, ma forse anche gli altri film che ho fatto, quelli più fortunati, quelli meglio riusciti, anche su set perché non sono nel risultato finale. E' il fatto che io abbia un'innata capacità di attrazione e di leadership, cioè io sento che la mia parola viene ascoltata con attenzione. Questa sintonia è tangibile, lo sentite anche con attori difficilissimi come Russell Crowe per esempio, faccio un esempio che non c'entra nulla. Russell Crowe è uno che litiga anche con i muri, però quando è venuto sul set mio, dopo sette giorni, ha capito che il comando ce l'avevo io e non c'era bisogno di fare frizioni, e mi ha detto letteralmente ok, facciamo questo film, dopo sette giorni che giravamo, quindi mi sono chiesto per capire un po' d'altro. Non so questo, non so questo, non so questo, non so questo. E questo ha creato questa sintonia, questa sinergia chimica che poi si può chiamare leadership, perché penso che occorre il fatto che loro sentano questa sorta di visione che è forte e che li mette in una sorta di comfort emotivo, tale per cui possono iniziare a vivere quelle emozioni piuttosto che simularle. Siccome io ho sempre paura delle cose simulate, false, posticce, cerco sempre di provocare una sorta di reazione emotiva, chimica, forte, veripotente, anche stravolgente, che però mi porta gli attori, quindi le persone, perché per dire gli attori ci sono uomini e donne e bambini, a un livello quasi di trans, in certi casi per cui quello che ho in mano diventa vita e io vivo quella vita che loro vivono. E credo che poi alla fine si senta questo vibrare delle loro corde più nascoste. Grazie. Gloria Salta, messaggero, cosa penso della serie lo sai già, è meravigliosa, non ho l'ora di vedere la seconda, la terza, la quarta. Ecco, la domanda è tu vedi le serie, l'aspettatore e quali ti piacciono? Grazie. Io sono molto selettivo come spettatore, non sono uno di quelli che si fanno le mani, che mi prendono tutto. Cioè io se una cosa non mi piace dopo dieci minuti li stacco, perché è il tempo che tolgo a me e alle cose che ho da fare, quindi in realtà non ho tempo da perdere, quindi spesso vedo le cose e dico, ho letto oppure ho sentito parlare bene e se mi agganciano, ho scoperto delle serie che sono assolutamente cinema. o come dice Barbara sono televisioni di una qualità talmente alta in cui non possiamo più dargli un'etichetta, cioè cos'è? È televisione altissima o è cinema in televisione? Non importa più, però ci sono delle cose, non sono tantissime, ma ci sono delle cose che sono sospendentemente alte e quello credo sia un punto transitorio importantissimo di questo momento perlomeno, che forse posso equiparare al passaggio da sonoro al muto, cioè comunque stiamo transitando in una nuova era di cui nessuno sa bene quali saranno gli effetti futuri, come però quelli che facevano il cinema in sonoro non avevano idea di cosa sarebbe successo con il cinema in muto, anzi lo demonizzavano e dicevano che sarebbe stata la fine del cinema. Per cui in realtà credo sia un momento molto interessante, perché le cose stanno cambiando molto velocemente, ancora più velocemente perché è accaduta questa cosa, la pandemia che ha divorato e esasperato tutti i comportamenti umani, le fragilità, i punti che erano rimasti sotto traccia, per cui in realtà c'è una reattività davanti alle cose che accadono che è esponenziale rispetto a prima, per cui anche questa transizione dal cinema a quello che è questo tipo di prodotto e quelli che verranno è sempre più urgente. Forse Gloria voleva qualche nome, ma forse io lo volevi dire. Ho detto, ho risposto, ho risposto, ho risposto, voleva dei nomi. Ma se vuoi, alcuni nomi devono essere eccezionali che ho visto, è scena dal matrimonio, è fuga a, tu lo sai perché è scagno? Fuga a Dannemora. Fuga a Dannemora è eccezionale, è una roba che io sono rimasto senza parole, è scagno a Dannemora, mamma mia. La regia degli scacchi. Finito. Va bene, va bene, così Gloria ne ha tre. Se stai facendo questo. Eh, merita. Se stai facendo, è più realista. Grazie. E poi è un po' che gira questa cosa, non vedrà, adesso non vedrà, non vedrà, non vedrà, non vedrà, vabbè. Comunque. Eh, forse Stefania, prego. Buongiorno, Stefania Di Piccoli della Sera. Allora, una domanda, senza fare spoiler, però il fatto che ci sia, rispetto al film, un filone, è detto proprio un crimine, un peccato originale, ecco, come possiamo, era il bisogno anche di esplicitare la parte muscolosa delle famiglie, e poi, visto il profilo di Gabriele, se questa serie ha già un interesse internazionale, se ci sono già cose che possiamo segnalare. Grazie. Eri questo, scusa Gabriele, rispondi tu alla prima, poi magari Antonella o Sonio. Prego, scusami. Sì, della prima posso rispondere alla seconda, no. Comunque, il crime è stato proprio un'intuizione che è venuta proprio da, appunto, da Babbo, da Petronio e dagli scrittori. mi è subito sembra interessante perché io ho sempre avuto una trazione verso l'oscuro, anche se poi mi sono tenuto per vari motivi nelle zone che non travalicavano quel muro nero che è il blackout e che ci porta in un vortice da cui a volte non c'è risalita. Però poterlo raccontare è molto interessante perché, essendo una serie che poi fondamentalmente parla di tutti i sentimenti primari più profondi, anche più foschi, beh, l'omicidio è uno di questi. Cioè, Caino e Abele come primo omicidio dell'uomo. Non spoilerare. Eh? Non spoilerare. Stavo facendo? Non ho già fatto. Che? No, vabbè, che è una bella. Cioè, ci sono cose che cadono nella vita tutti i giorni, ma che? Che non ha ucciso qualcuno? Insomma, eh, comunque si vede un po' di Samus. E' un vitello sotto l'ascinato. Non è piaciuto. Potrebbe anche essere un suicidio di un mestiere. Tante possibilità. Comunque, vabbè, in ogni caso il crime apre una frontiera perché ti porta a entrare in quel labirinto mentale di chi lo subisce o di chi lo esercita, che è una zona molto, molto, molto interessante da esplorare. Perché è quel famoso blackout della ragione che avviene per motivi proprio primordiali, cioè di sopravvivenza spesso. Cioè, l'uomo per sopravvivere deve uccidere quello da cui sarebbe ucciso. Quindi, di fatto, siamo stati costruiti nella storia degli ultimi 300.000 anni, anche in funzione della sopravvivenza della specie, che si basa in certi casi primordiali, ma che poi primordiali, di fatto, non solo perché sono una delle componenti complesse dell'essere umano, quella anche appunto di commettere un crimine assoluto, anche il più feroce dei crimini immaginabili, perché è l'esercizio assoluto di potere che hai su un'altra vita, vogliendola. E quindi è interessante. Antonella, Sonia, non so se volete aggiungere qualcosa alla domanda di Stefania sull'internazionalità della serie. Sì, abbiamo già un distributore, che appena abbiamo iniziato a girare ci ha contattato immediatamente, che è Beta Film, distribuzione con cui noi già abbiamo consolidati i rapporti con Gomorra, innanzitutto come serie, diciamo, che hanno distribuito Everywhere. L'hanno già annunciata al MIPCOM, che hanno fatto a ottobre, e quindi ci hanno contattato e stanno aspettando solo che la lanciamo noi per poterla iniziare a far vendere anche agli altri territori, perché ovviamente, prima di tutto, Sky Italia, e poi gli altri la vedranno. Benissimo, grazie. Ci sono anche altre domande? Hai capito, Mariana. Mariana è lei? Come fare il ginastro, è Mariana? Sì, sono. Faccio vedere. Faccio a Mariana. Allora, mentre dicevi queste cose, la dici era un po' era un po' era un po' era un po' razionali, proprio. Benissimo, non so se ci sono altre domande, o forse magari da collegamento, se no magari possiamo coinvolgere un po' il cast. Sono Lidia Maltese per Olof Sirius, ho una domanda per il cast, quindi... Perfetto, mi è anticipata, bravissima. Come aveva già anticipato Gabriele, appunto è stata una ricerca, la vostra e tutti i personaggi, però volevo sapere dal loro punto di vista come è stato interpretare i personaggi che sono già stati interpretati, se hanno preso ispirazione o hanno cercato di dare una nuova vita a questi personaggi. Grazie. Come iniziamo? Iniziamo quando... Vai Francesco. Inizio io. Ti alzi Francesco. Sì, pensate meglio. Dunque, in realtà no, perché ognuno di noi porta qualcosa di individuale, naturalmente, in un personaggio che sia stato fatto prima da altri attori, non puoi solo ammirare il loro lavoro, però secondo me non serve, anzi sarebbe in qualche modo fuorviante. Il rapporto è sempre nuovo, nasce tra te, la scrittura, il regista e i colleghi con cui lavori. Chi c'è stato prima, applauso, ma... Ciao. A me no, sì. Ciao. Ciao. Francesco. Magari naturalmente anche se volete aggiungere qualcosa sul personaggio, sull'esperienza, sulla storia. Beh, molto sintetico visto che sia un esercito. No, allora, all'inizio devo dire, leggendo le sceneggiature, io ho una memoria fotografica che a volte è ingombrante e io vedevo Favino passarmi tra le parole e dicevo, oddio, questa cosa non va bene. Ok. Poi Gabriele è un regista che ti svita la testa, la lancia e ti dice, adesso tu non c'hai tempo per pensare o immaginare, devi darmi, quindi diciamo che il problema sul set poi è sparito. Come interpretazione no, perché la materia che raccontiamo nella serie è, mi verrebbe da dire, tutt'altra. Nel senso che, sì, il cuore del personaggio, la struttura forse è la stessa, però la serie ti dà la possibilità di sviluppare tante più sfaccettature, quindi sono molti gli elementi, molti i rapporti che vengono sviluppati, quindi è molto interessante. Chiudo velocemente, tanto poi vedrete la serie, quindi non anticipo niente. Lavorare con Gabriele Muccino è come fare l'amore in maniera naturale con una donna o con una persona che ti piace, perché è vero, cioè, no, quando Sonia diceva è tutto naturale, è vero, cioè tu improvvisamente, è complessissimo perché la materia che porti è grossa, però è stupendo. Quindi io finivo il set, facevo la doccia e mi sentivo innamorato di tutti, non solo di te, di tutti, anche i colleghi che odiavo come personaggi, perché questo è tipo mia sorella, e lei è insopportabile. Buongiorno a tutti. Grazie Francesco, ciao a tutti, sì, non posso che sottoscrivere quello che ha detto Francesco, magari in maniera un po' più morbida, la cosa bella che fa Gabriele per un attore, veramente prenderti la testa e lanciartela via, come lui ha detto, noi non abbiamo interpretato dei personaggi, li abbiamo vissuti, delle volte sorprendendo anche noi stessi. Per quello che riguarda la tua domanda, sì, è ovvio che ognuno di noi ha visto il film, poi le nostre interpretazioni si sono distaccate da quello che abbiamo visto, io penso che in realtà, in comune con quello che ho visto rispetto al mio personaggio, rispetto anche all'interpretazione di Sabrina Impacciatore, c'è il fatto che Sara Ristuccia non è una donna tradita a tuo cuore, non è una donna vittima, ma è una donna che reagisce delle volte anche in maniera imprevedibile. Bene, così! Eccoci, prego. Buongiorno a tutti, io saluto Carolina Crescentini, che è fantastica e meravigliosa, abbiamo tante cose in comune io e Carolina, però con Gabriele fin da subito, fin dal provino, abbiamo provato a trovare altre strade, anche un pochino più morbide rispetto a quelle del film, e poi io sono arrivata che c'erano praticamente già tutti, quasi, e quindi mi sono ritrovata subito Francesco, quindi per me è stata proprio una cosa nuova, mi sono completamente scordata con tutto il rispetto, però scordata completamente del film. Grazie Gabriele, grazie Marco, grazie a tutti, grazie a Sky, è stato stupendo e speriamo di fare la seconda stagione molto presto. Grazie a voi. Allora, io farò una risposta comunitiva, tra me e mio figlio, anzio di Fede, e sì, non ce ne vediamo, perché da qua a là sarà un mondo. Allora, è stato bellissimo, innanzitutto, lavorare su carta bianca, cioè Gabriele ci ha dato questa libertà, in realtà, di poter lavorare su dei personaggi e crearli nuovamente, quindi, ripeto con altre parole quello che hanno detto loro, e mi sono trovato molto bene con questo giovane attore che è formidabile, devi dire altrettanto di me. Sì, pure te sei formidabile. No, sì, infatti pure io ringrazio Gabriele perché ci ha dato la possibilità, cioè, ci ha dato carta bianca e io non ho avuto modo di vedere, cioè ho avuto il film, però non ho avuto modo di interpretare Giovanni, però ho dato il mio meglio, come, d'altronde, come ogni film, perché... Perché io... Faccio un zio, mi dico... Sì, perché io ho dato il mio meglio e spero di averlo interpretato bene. Grazie. Io ero libero da questo punto di vista perché nel film c'è un personaggio che è il ristorante, se ne parla, però Manuel non c'è, Manuel compare nella serie, quindi ero libero da questo punto di vista. Per me la cosa bella di Gabriele è che non è che lavora con gli attori, lavora con degli esseri umani, cioè lui prende la tua umanità, te la tira fuori, ti toglie i filtri, quindi da questo punto di vista non è quasi un lavoro attoriale, è un lavoro umano, quello che fai con lui. E la cosa bella dei suoi personaggi... Niente! No, no, vai, vai, ora sì. La cosa bella dei suoi personaggi è che sono splendidamente umani, cioè sono contraddittori, cioè pensano una cosa, però ne fanno un'altra, c'è sempre questo conflitto fra quello che vorrebbero veramente fare e quello che poi fanno, quello che dicono e quello che poi fanno, e in questo secondo me, cioè in questa fila ci sono tanti bravissimi attori, ma anche tanti esseri umani che hanno portato la loro imperfezione, i loro difetti, i loro dolori, questa cosa qua, questo è bello, secondo me. Grazie. Farò, però, sarò benissimo, mi accodo a Francesco Martino, il mio personaggio di regina è un personaggio nuovo, c'era nel film, ma si vedeva poco, quindi questa amante un po' pazza, un po', non lo so, non la voglio giudicare, regina. Per quanto riguarda il lavoro con Gabriele, io sono emozionatissima anche adesso, ho difficoltà a parlare, perché sono così, sono proprio così, e voglio soltanto ringraziare tutto il cast qui presente, perché mi sono trovata davvero, si è formata una famiglia, cioè io energeticamente sento questo, mi sento all'interno di una grande famiglia, e voglio ringraziare Gabriele, è un vortice di emozioni Gabriele, cioè non puoi andare, non puoi iniziare una scena che non sei pronta, perché anche se non sei pronta o stai piena d'ansia, lui sta lì che ti rilassa, io lo dico sempre, non è più il regista, io non lo vedo come un regista per me, il mio mentore, il mio maestro, è tutto, quindi lo voglio ringraziare, voglio ringraziare tutti quanti, basta. Grazie. Buongiorno a tutti, allora quando Gabriele mi ha chiamato per sostenere il provino per il ruolo di Isabella, mi ha detto Maria Chiara vuoi fare questo provino? Ho detto ma che domanda è? Certo vengo a Roma a piedi, lui ha detto te lo faccio fare, però mi devi giurare che sarai te stessa, devo vedere Maria Chiara. Io ho detto beh, chiedere a un attore una cosa del genere, no è bello poi quando un attore si può distaccare da se stesso e snaturare, però con lui ho scoperto la bellezza del poter mettere davanti a una macchina da presa anche la propria sensibilità, il proprio io e ho cercato di dare questo al ruolo di Isabella, di mostrare le fragilità, questa Isabella che è stata interpretata da Elena, dalla Cucci, lei è un girasole proprio quell'attrice e quindi spero di aver reso la stessa luce che ha dato lei e di aver scoperto delle fragilità, è stato interessante quando ho approcciato anche all'immagine di questo personaggio e mi hanno cambiato il look, mi sono vista diversa e in realtà in quella diversità ero tanto uguale come ho scritto alla costumista alla fine della serie, è stato incredibile ritrovare di farmi così vicina a me stessa quando sono a casa mia a pasto davanti al mare e quindi spero di aver reso a Isabella tutto questo. Grazie Gabriele, è stato bellissimo. Buongiorno, salve a tutti, io volevo dire che è stato un viaggio incredibile, ho cercato di dare a Luna qualcosa che fosse mio e con l'aiuto di Gabriele spero di aver fatto un buon lavoro. Sono grata a Gabriele, sono grata a questo cast perché mi avete fatto crescere professionalmente ma soprattutto umanamente come essere umano, come persona, quindi grazie. Non vedo l'ora di girare questa seconda stagione insieme. Non sai che ti aspetta quella? Ultime cose vai. Che cosa succederà a Luna? Vedremo insieme. Io sono emozionatissima, sono felicissima e grazie. Grazie a te. Grazie davvero. Grazie. Paola, prego. Buongiorno, come avete visto, le ragazze qui le più sono tutte brutte, già sono giovani ed è fastidioso, sono anche belle. Quello ho conosciuto Svella Mariani, quella che ha parlato prima di me, e lei è venuta educatissima, un amore, e mi dice buongiorno signora, tutto piccolo piccolo, e io l'ho guardato e ho detto, ma chi è questa? Bella, da morire con i giravo, che è una meraviglia. E l'ho guardata bene, e lei, sempre educatissima, e io gli ho detto, io spero che tu sia stupida. Si mise a ridere, dimostrando che non lo è. Cosa volete che vi dica? Io sono stata felicissima di fare questa serie, ed è vero, Gabriele ha tutto in testa. Diceva Marco Pellardi, dopo che l'ha scritto, ce l'ha tutto in testa, perciò ti porta esattamente dove lui ha deciso che tu vada. Lui mi ha domata, lo dice lui, lo dico io, perché le mie insicurezze, le mie stupidità sono un essere umano, perciò ringrazio veramente tutti. E Gabriele non sono un regista straordinario, proprio siamo a livelli incredibili, ma una bella persona, e non si dice di tutti così. Perciò grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, io per andare controcorrente dirò che mi sono trovata malissimo, che sono in set, e no, perché qualcuno lo dovrà portire, no, allora non è assolutamente vero, io faccio fatica a fidarmi nella vita, così nella vita come sul set, se sento che c'è qualcuno, un regista di cui non mi fido, faccio molta fatica a lasciarmi andare. E qui non è stato così, tra l'altro io ho cominciato, e ho girato il primo giorno, insieme a Francesco, in Sardegna, era un pre-girato, e faceva un freddo terribile, noi entravamo in questa inquadratura, freddoliti, dove dovevamo invece trasmettere felicità, gioia, eccetera, e sentivo solo Gabriele, diceva, no, 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 Stiff, 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 che voleva dire che eravamo legnosi, eccetera, per cui quella è stata proprio l'overture, e ho detto, cioè, devo andare per forza meglio da qui in avanti, e così fortunatamente è stato. Rispetto alla domanda iniziale, il fatto di poter vedere un film, è ovvio che uno non copia o imita quel personaggio, però ti viene mostrata una fotografia di quello che Gabriele voleva che quel personaggio trasmettesse, per cui uno può rubare quelle emozioni che ti arrivano, e farle tue, e poi cercare ovviamente, nel possibile, di ridarle. Grazie, grazie a tutti. Valerio. Buongiorno a tutti. Ha salutato. Capisco. Non l'ho capito. No, io, io ho imitato Massimo Chini, parola, spero si capisca, l'indicazione proprio del regista, mi dà Massimo Chini, tu non farei di tu. E per quanto riguarda la prossima serie, credo che, a parte i deceduti, sono il primo che verrà fatto fuori. Chiari motivi, clinici. Vabbè, insomma, mi godo questo momento. Vabbè, intanto grazie per questa grande occasione che Gabriele ha dato a me e come anche ad altri, perché ha avuto il coraggio e la responsabilità grande anche di investire su dei volti nuovi. E io spero che questo sia un po' l'atteggiamento anche prossimo, futuro, insomma, dei registi e anche, credo, delle produzioni, di guardare anche un po' al di là, insomma, del solito circuito, perché fuori ci sono degli attori veramente molto bravi e di talento, non parlo per me, chiaramente. Anche sì. Stai parlando di te. Giusto, giusto. No, parlo, mi faccio un po' portare a voce di questo. Io, per esempio, posso dire, lui fa il ruolo che era il DJ Marco Vignazzi, che era un ruolo complessissimo comunque, perché DJ Marco Vignazzi ti porta dentro un sacco di cose, ed era una delle cose, per esempio, con Nils ci dicevamo, ma come facciamo a trovare un altro come Gimbo? Arriva questo qua. Eccolo. Non so da dove sia uscito, perché ho avuto un caso di director bravissimo che mi ha portato tutti loro, alcuni li conoscevano, con alcuni li avevo lavorato, tipo Francesco Acquaroli, tipo Shanna, collaborante, e con Emma Marrone. Con gli altri, no, alcuni li conoscevano, ma non ce l'ho... Ah no, e neanche Mariana avevo lavorato. E anche a me? Eh? Perché? E anche a me l'ho lavorato, scusami, le mie 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 belle, hai ragione. Avevo state buoni. Comunque, in un caso, arriva Alessi Moneta, che io vi garantisco, io sono rimasto furgurato da un talento così, che unisce il tragico e il comico in un modo che è eccezionale, perché proprio è l'essenza, anzi la quinta essenza della comedia italiana pura degli anni 60, in cui l'anti-eroe era eroe perché la sua sconfitta era talmente empatica che diventava una rivincita, e lui ha trovato un attore straordinario, e sono molto felice, e infatti non ho visto nessun altro, lui diceva, ma... Cioè, hanno fatto 30 trovere che dovranno dargli la partner, e a questo punto poi mi sono illuminato e ho detto, ma Emma, e quindi fu Emma, che oggi non c'è perché sta già a girare un altro film, cioè Emma se si ferma due ore penso che vada in panico e non lo so, quindi è meglio subito fare un film così al volo, che nulla, per cui comunque sia, però non ho visto altri Riccardini oltre lui, effettivamente, perché, io penso che nella serie lo capirete, perché è da tantissimo, ed era un attore di cui io non sapevo nulla. Grazie quindi per questa possibilità, e grazie a tutti, e speriamo che insomma vi piaccia il lavoro che abbiamo fatto, grazie a tutti. E adesso come chiudo? Ho detto tutto, era tutto bello, perfetto, è stata un'esperienza unica, sono grata a Gabriele, alla Lotus, Leone, Sky per questa esperienza, e sono grata per aver incontrato dei compagni dei compagni di lavoro veramente, veramente bislacchi e interessanti, perché ognuno di loro è unico nel loro modo di essere e non ci siamo dati dei limiti, perché come capitano avevamo lui, quindi ci siamo dati completamente il rischio a posteriori a diventare dipendenti dalle sue modalità di farci stare insieme, dipendenti da lui, dipendenti dal cast, dalla storia, che già nella scrittura aveva, secondo me, una grandissima potenza ed era chiarissima. Al provino è stato un po' complicato con Valerio perché aveva paura, nel senso che quando mi sono avvicinata durante il provino per toccarlo eravamo in piena pandemia, quindi era molto complicato anche relazionarsi, dovevamo rappresentare in dieci minuti un rapporto d'amore adolescenziale che poi ritornava con una grande potenza e con un grande problema da affrontare, però poi è successa la magia, grazie alla sua grande disponibilità, quindi grazie Valeria e grazie a tutti, grazie a tutti, rinnovo naturalmente l'appuntamento dal 20 di dicembre su Sky Series, saluto e ringrazio insomma tutto il cast, naturalmente Gabriele, Gabriele Muccino, Sonia Rovento, Nell'Aderrico, Marco Belardi, Raffaella Leone e Barbara Petronio. Grazie, complimenti. Grazie, grazie.